L'antimafia sociale spiegata ai ragazzi del San Paolo di Vari, 30 milioni di euro di dotazione da parte della regione, Emiliano Emergenza Foggia, il procuratore di Vari Rossi, senza le intercettazioni non si possono raggiungere gli obiettivi. Maltempo e sondalofanto corso d'acqua che si ingrossa e allerta nei centri della BAT di Canosa e San Ferdinando, mobilità di sindaci e protezione civile disposto, divieto d'accesso in alcune contrade e tempesta di neve intanto su Gargano e Monti Dauni. Autorità idrica pugliese sprint su gare a palti nel 2022, cantieri per un miliardo di euro in totale, in fiere del Levante il punto sugli interventi nel territorio regionale e l'agenda dei prossimi due anni. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento in diretta con l'informazione delle province di Bari, Bata e Foggia. In primo piano l'antimafia sociale spiegata ai ragazzi del San Paolo di Vari, ci sono 30 milioni già messi a disposizione dalla regione, con il governatore Michele Emiliano che cita quella che definisce l'emergenza Foggia. E poi il rimando a quelli che sono i temi nazionali con il procuratore di Bari Rossi che elenca le intercettazioni come determinanti senza le quali non si possono raggiungere gli obiettivi, i dettagli. Per cui insegnare ai ragazzi, ai bambini la capacità di affrontare cultura mafiosa, di analizzarla, di saper rispondere, di non avere paura di fronte a certi fenomeni anche sociali, anche che si sviluppano tra i piccoli, pensiamo al bullismo, al cyberbullismo, è importantissimo perché bisogna togliere l'acqua nella quale la mafia sopravvive. Così il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, al termine dell'evento l'antimafia sociale in Puglia, organizzato al quartiere San Paolo dal municipio 3 con il patrocino della regione Puglia, della città metropolitana e del comune di Bari e dell'associazione Libera. Obiettivo l'educazione alla legalità e la cultura dell'antimafia. Hanno partecipato numerosi studenti. Abbiamo una struttura comunale che si occupa di antimafia sociale e incontra soprattutto i ragazzi, le nuove generazioni, spiegando che non c'è futuro per i criminali che o muoiono oppure finiscono in galera per il resto dei loro giorni. Lo facciamo stando insieme, cercando di coinvolgere le associazioni, le scuole, le parrocchie. Oggi qui ci sono anche tutte le istituzioni. I giovani sono i primi a rischio e noi lo sappiamo, soprattutto i giovani di famiglia anche che non hanno mai avuto problemi oggi in passato con le mafie. Però questi figli con il miraggio a volte del lavoro, del guadagno facile, sono facile preda della cultura mafiosa. All'evento hanno partecipato il generale Stefano Spagnol, comandante della regione Carabinieri Puglia, il governatore Michele Emiliano, il quale ha detto oggi siamo la regione che investe più soldi nell'antimafia sociale. 30 milioni di euro nell'ultimo periodo, sempre sostenuti da chi svolge l'attività repressiva. E finiscono in procura gli attacchi alla sede provinciale della CGL di Mari dello scorso 18 gennaio. Le frasi, tanto sui muri della Camera del Lavoro, quanto sui profili social di alcuni dirigenti hanno natura intimidatoria, fa sapere illegale. Dalle parole ai fatti, dopo la fiaccolata dei giorni scorsi in segno di protesta e indignazione, la segretaria confederale della CGL di Bari, Gigi Abucci, accompagnata dall'avvocato Onofrosisto, ha depositato in procura la denuncia per i fatti accaduti nella notte del 18 gennaio, con danni aggravati da frasi intimidatorie e minatorie. Riponiamo massima fiducia nei confronti della magistratura. Ovviamente non intendiamo sottovalutare questi vili e vigliacchi gesti che sono accaduti. Abbiamo in queste ore, stiamo raccogliendo la solidarietà, la vicinanza di tantissimi soggetti, a partire dalle istituzioni, sindaco, presidente di regione, associazioni e altro. Intendiamo continuare a denunciare qualsiasi atto si svilupperà e interverrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché la migliore risposta possibile è senza dubbio quella della denuncia. Il primo grazie che dobbiamo è al procuratore Rossi, il quale immediatamente ha ritenuto di riceverci e quindi di recepire la denuncia che la CGL ha fatto a tutela della cittadinanza tutta innanzitutto. Noi crediamo che questo sia un fenomeno che non può riguardare soltanto l'organizzazione sindacale della CGL, ma che riguardi la cittadinanza di Bari e la Puglia. Ci spostiamo nella BAT per i funerali di Teresa Di Tondo, proclamato il lutto cittadino, il rilascio delle salve dopo l'esame autoptico nell'Istituto di Medicina Legale di Bari. Secondo i risultati dell'esame autoptico disposto sui corpi di Teresa Di Tondo e Massimo Petrelli, si tratterebbe di omicidio-suicidio, quello che qualche giorno fa ha scosso la cittadina tranese. I corpi sono stati rinvenuti privi di vita, uno all'interno dell'abitazione e l'altro all'esterno. L'esame è stato lungo e complesso, soprattutto quello sulla 44enne, morta a causa di numerosi colpi inferti dal compagno prima di togliersi la vita, impiccandosi in giardino. Serviranno altre indagini microscopiche e distologiche per stabilire con esattezza l'ora del decesso di ciascuno. I medici hanno a disposizione 90 giorni per depositare tutte le risultanze. Intanto il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha proclamato il lutto cittadino per sabato 21 gennaio, in concomitanza con lo svolgimento delle sequie di Teresa Di Tondo. I funerali si terranno alle ore 16 nella chiesa di San Magno. Ve ne daremo conto nel corso della prossima edizione. Va verso la presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari, invece, Salvatore Daluiso, 59enne, penalista, la cui lista ottiene 13 seggi su 25, assicurandosi la maggioranza assoluta nelle elezioni per il nuovo Consiglio. Va verso la presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Salvatore Daluiso, 59enne, penalista, la cui lista ha ottenuto 13 seggi sui 25, a disposizione assicurandosi la maggioranza assoluta nelle elezioni per il nuovo Consiglio. L'ufficialità arriverà soltanto tra due settimane, nel corso della prima riunione utile dell'organismo, la stessa nella quale saranno eletti anche vicepresidente, segretario e tesoriere. In compenso, le urne chiuse nelle scorse ore hanno dato un risponso netto. 41 aspiranti in totale, tre liste, la presidente uscente, che non ha potuto concorrere vista la norma del doppio mandato che impedisce la corsa, a chi abbia già ricoperto per due volte di fila l'incarico di consigliere. Era subentrata Giovanni Stefani nella scorsa primavera. Colizziamoci è risultata anche la lista più suffragata dai 3681 Avvocati al seggio, portando a casa il 58% delle preferenze sui 6.300 aventi diritto. I candidati più votati sono stati Guglielmo Starace e Antonio Bellomo, entrambi della lista concorrente Libero Foro, seguiti da Daluizio e Alessandro Russi di Colizziamoci. Vede, il rinnovamento è un fatto che sta nelle cose. È giusto che sia così. Naturalmente bisogna anche prendere atto di ciò che è stato fatto di buono in passato. Prima fra tutte, naturalmente, conosciamo bene l'argomento che è quello dell'edilizia giudiziaria. L'Avvocatura può intervenire con una funzione di controllo e di sollecitazione alla soluzione del problema. Purtroppo non ha strumenti diretti per poter incidere sulla soluzione, ma certamente ha strumenti di controllo e di stimolo rispetto alla soluzione. Parliamo veramente di una manciata di voti. Ora non so, la linea della continuità, se è questo il punto della questione. È stato scelto uno schieramento piuttosto che un altro sul filo di lana. Complimenti a chi ha vinto. E torniamo nella batta. Antonio De Luce lascia la presidenza del Tribunale di Trani dopo sei anni di mandato. Tullio Bertolino chiude invece otto anni di attività da Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Il Polo Giudiziario della Sesta Provincia va al rinnovo delle cariche a partire proprio dall'anno in corso. Antonio De Luce lascia ufficialmente la presidenza del Tribunale di Trani dopo sei anni di mandato. Da gennaio 2017 alla guida del Polo Giudiziario della Sesta Provincia Pugliese, il 69enne magistrato ha concluso il suo percorso con i saluti durante la cerimonia presso il Museo Diocesano di Trani in Piazza Duomo e a due passi dallo stesso Tribunale. L'evento ha visto anche l'esibizione del violinista Alessandro Quarta, artista di fama internazionale, che ha lavorato con musicisti di altissimo livello in tutto il mondo. La celebrazione ha ricalcato i momenti cruciali della gestione De Luce dall'emergenza pandemica che ha condizionato il lavoro degli uffici giudiziari agli scioperi che si sono intercorsi durante i sei anni di mandato. Il tutto però garantendo comunque un ruolo di spicco del Tribunale di Trani nell'intero panorama pugliese e nazionale. Volge al termine anche il mandato di Tullio Bertolino come presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani dopo otto anni di attività in rappresentanza delle toghe del Foro Tranese. Il rinnovo del Consiglio dell'Ordine avverrà con le elezioni della prossima settimana mentre c'è ancora attesa per chi prenderà il posto di De Luce alla presidenza del Tribunale. Altre elezioni, altre cariche, quelle per la guida del Lanci e della Tull di comando dell'associazione che riunisce i sindaci pugliesi in 170. Ieri si sono ritrovati a San Severo per l'Assemblea regionale. Vediamo com'è andata. La Puglia guarda il futuro e riparte dalla Capitanata. In oltre 170 tra sindaci e amministratori dei comuni pugliesi ma anche istituzioni locali e nazionali si sono dati appuntamento al Teatro Verdi di San Severo per l'Assemblea regionale di Ancipuglia a raccogliere l'invito del Presidente Ettore Caroppo, anche il Governatore Michele Emiliano e il Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. Una giornata intensa di confronto su alcuni dei principali temi ed urgenze che interessano le realtà territoriali conclusasi con l'intervento del Presidente nazionale di Anci, il Sindaco di Bari Antonio De Caro e l'approvazione dello statuto da parte dei soci. Gli incontri dell'Anci servono a fare squadra, a stare insieme, a discutere, a fare proposte su questo che è il percorso che stiamo affrontando in questi mesi anche nel rapporto con il Governo nazionale e con il Governo regionale. Mi fa piacere che la riunione quest'anno, l'Assemblea, l'abbiamo fatta qui in questo teatro meraviglioso è un pezzo della storia, della cultura della nostra regione ma abbiamo scelto questo luogo perché è un luogo simbolico dove l'unità dei sindaci deve mostrarsi anche all'esterno, la vicinanza delle amministrazioni comunali di tutta la Puglia a questa città, a San Severo, che è stata devastata nei mesi passati e negli anni passati dalla criminalità organizzata, da quell'azione pervasiva della criminalità organizzata. Qui io mi sento di ringraziare il Sindaco Francesco Miglio e l'amministrazione comunale perché si tocca con mano quella che è la missione dell'amministratore locale. Diciamo spesso che fare il Sindaco è il mestiere più bello del mondo ma ti dà anche molte responsabilità. E adesso una pagina dedicata al maltempo, nella BAT esonda Lofanto, il corso d'acqua si ingrossa in alcune delle sue parti e allerta nei centri tanto di Canosa quanto di San Ferdinando, vuol dire sindaci mobilitati, protezione civile in allerta con divieto d'accesso in alcune delle contrade e poi ci spostiamo nel Foggiano invece. C'è grande attenzione intorno all'Ofanto. Il più importante fiume della Puglia nelle ultime ore si è ingrossato e sondando in alcune parti della zona di Canosa e San Ferdinando di Puglia. Il livello di guardia è stato raggiunto a causa delle forti piogge che nelle ultime ore si stanno abbattendo sulla campania e in particolare nell'area di Avellino, dove il fiume nasce. Nella zona di Canosa è stato avviato il monitoraggio costante delle acque ed attivato un piano di prevenzione da comune, prefettura e regione. Alcune aree di campagna sono state già inondate dall'acqua, situazione complicata anche a San Ferdinando di Puglia dopo le sondazioni di questa mattina. La sindaca ariana Camporeale ha firmato un'ordinanza di divieto d'accesso alle contrade Pezza di Pera e Sospiro in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore. Il bollettino regionale della protezione civile lancia l'allerta gialla ed annuncia forti precipitazioni nella zona del basso Ofanto. Di qui la chiusura dell'accesso alle campagne a ridosso del fiume, già allagate da questa mattina. Ed è già tempesta di neve intanto su Gargano e Monti Dauni. L'inverno comincia a fare sul serio e torna ad imbiancare il Gargano e i Monti Dauni con la prima neve del 2023. Numerosi comuni che stamani si sono risvegliati sotto la coltre bianca e non sono mancati neanche gelo, piogge e forti raffiche di vento soprattutto nelle coste garganiche, confermando le previsioni meteo per questo weekend. In tutti i comuni dell'Appennino Dauno le scuole sono rimaste chiuse con la possibilità che l'ordinanza venga estesa anche ai prossimi giorni. Faeto, Anzano, Alberona, Roseto, Valfortore dove sono stati rimandati i famosi attesi fuochi di Sant'Antonio e poi ancora Monte Leone, Accadia, Bovino, Castelluccio, Orsare e Volturino tra i borghi più colpiti dalle abbondanti nevicate e dove per tutta la notte i mezzi Spargisale e Spazzaneve della provincia hanno lavorato per liberare da neve e ghiaccio le arterie più importanti. Tormente e tempeste di neve anche sul promontorio del Gargano di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco Illamis, San Nicandro e Rignano Garganico. Nelle strade provinciali, statali e sui tratti delle autostrade a 14 e a 16 al momento non si registra nessun disagio particolare e si circola solo con equipaggiamento invernale. Insomma, dopo mesi di caldo anomalo e fuori stagione, il generale Inverno e la Dama Bianca hanno fatto la loro prepotente ricomparsa non risparmiando nemmeno le aree più pianeggianti in cui si registrano temperature polari. Ancora acqua, ma da tutt'altro punto di vista, quello dell'autorità idrica pugliese Sprint su gare appalti nel 2022 cantieri per un miliardo di euro in totale. La regione Puglia, attraverso l'autorità idrica e attraverso Acquedotto Pugliese, con la collaborazione di tutti i sindaci, si accinge negli anni 2023-2024 a investire un miliardo di euro in sistemi fognari, idrici, depurativi, ricerca perdite. Riassume così Michele Emiliano gli interventi del servizio idrico integrato e le prospettive future. 28 conferenze di servizio nel 2022, quelle con le quali l'autorità idrica pugliese ha approvato 19 progettazioni definitive per 609 milioni di euro di lavori sulla rete idrica e fognaria regionale, ai quali si aggiungono le 28 già definitive o esecutive per interventi sulla depurazione delle acque. Vanno dalla fornitura di acqua in zone in crisi, alla gestione dei fanghi e all'eliminazione dei disturbi olfattivi. Nel futuro imminente la spesa complessiva per il 2023 è già di 520 milioni di euro e gli ulteriori 487 per il 2024. Si tratta di interventi straordinari, importantissimi, che miglioreranno le condutture, che ci permetteranno di depurare meglio le acque e quindi potremo anche recuperare risorse idriche attraverso la depurazione per il riuso. Qual è l'elemento importante? Che essere riusciti a fare palti complessivamente per oltre un miliardo di euro è un fatto che accade per la prima volta in Puglia e consente di poter dire con tranquillità che siamo un motore dello sviluppo economico territoriale perché ogni volta che noi investiamo un euro se ne muovono altri 15 di sviluppo economico. E intanto a fare sponda è anche Lega Ambiente, che gioca di squadra con Acquedotto Pugliese, obiettivo rispettare gli obiettivi del piano europeo e dell'agenda climatica 2030. Un accordo di 9 pagine e 12 articoli allo scopo di instaurare una collaborazione sinergica per realizzare attività che siano nel quadro della transizione energetica coerentemente con gli obiettivi fissati dal piano europeo energia e clima 2030 e quello siglato a Bari tra l'Acquedotto Pugliese e Lega Ambiente si cercherà di sensibilizzare la comunità attraverso percorsi formativi e di educazione ambientale sviluppando dibattiti territoriali con amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e scuole accordo della durata di un anno. La direzione è che si avviciniamo sempre di più ai nostri clienti perché la gente, la popolazione comprende sempre di più l'importanza dell'acqua il fatto che bisogna averne cura, le difficoltà della distribuzione, la necessità di rispettare l'ambiente in tutto visto che noi abbiamo e trattiamo una risorsa naturale come l'acqua quindi questo aspetto deve essere percepito chiaramente. Un percorso che vuole valorizzare al massimo questa grandissima risorsa che abbiamo facendolo anche attraverso la partecipazione dei cittadini, soprattutto le scolaresche dove portarli a far vedere quello che è in realtà un depuratore quindi che va conosciuto, va sensibilizzato. Lega Ambiente e Acquedotto Pugliese aderiscono al progetto L'Acqua che serve alla Puglia fondamentale preservarla e riutilizzarla combattendo il suo esaurimento. Un appuntamento per sottoscrivere un protocollo, per mettere insieme insomma un soggetto che fa parte della storia di questa regione che sta facendo delle cose molto importanti nell'ottica della transizione ecologica ed energetica sono due temi su cui siamo molto impegnati e inevitabilmente le Cambiente e Acquedotto Pugliese non potevano iniziare questo percorso strutturato per lavorare sul tema dell'efficientamento della depurazione, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della promozione dell'economia circolare. Corato è pronta a diventare l'agri-food hub del Mediterraneo? Vediamo come. Quasi 12 milioni per l'agri-food hub della Puglia nascerà a Corato dalla riqualificazione degli ex molini e pastifici Basile lo storico edificio diventerà un centro di eccellenza un polo di ricerca, sviluppo e alta formazione per il territorio e un punto di riferimento nazionale e internazionale per la collaborazione tra impresa e università. Oggi partono i lavori e la nuova struttura potrebbe vedere la luce tra poco più di un anno tutto nasce grazie alla sinergia tra pubblico e privato tra l'industria Casillo e l'Università di Bari per dare nuovo vigore al Made in Italy. C'è un laboratorio pubblico privato che noi abbiamo attivato qualche anno fa insieme al gruppo Casillo per trasferire la ricerca scientifico-tecnologica nei processi molitori. È stata un'esperienza interessante, ci ha permesso di fare tanti progetti insieme e poi è arrivata un'opportunità quella di far fare un salto di qualità a quello che stiamo facendo. Immaginare che la Puglia possa diventare il luogo dove si fa la formazione nell'ambito delle nuove tecnologie applicate all'ambito agroalimentare. Un'operazione come si suol dire win-win dove tutti hanno da vincere, le imprese, l'università che applica le proprie competenze per delle ricerche utili e anche i studenti, i cittadini, il territorio, si vince tutti insieme. Sindaco, lei giustamente ha detto che questo è un importante tassello anche per la rigenerazione urbana. Sì, si colloca proprio nel cuore tra il centro della città, la zona residenziale e la zona industriale. Quindi intercetta anche una delle grandi traiettorie del PNRR che va nel segno della rigenerazione urbana. E peraltro si propone anche il recupero di una struttura, espressione di archeologia industriale che ha fatto la storia produttiva della città di Corato proprio nel settore dell'agroalimentare. E restiamo in argomento perché il pomodoro di Puglia potrebbe avere un'arma in più a difesa, la denominazione DOP. Questo è ormai il primo paletto, fondamentalmente il comitato col mondo scientifico, il mondo degli esperti del settore hanno individuato che il pomodoro pelato in Puglia ha una sua storicità e una sua cultura che si perde nel tempo. Il pomodoro di Puglia potrebbe avere un'arma in più a difesa, la firma nell'escorsione è quella nella sala consigliare della Camera di Commercio di Foggia, sul disciplinare per ottenere il riconoscimento della DOP, denominazione di origine protetta. D'altro canto il 40% del pomodoro italiano viene proprio dalla Capitanata che da sola produce il 90% del pomodoro lungo, superficie media annua di 15.000 ettari nel foggiano e produzione di pomodoro da industria che si aggira intorno ai 14 milioni di quintali, non senza le difficoltà derivanti dai rincari. Con i costi energetici in salita si sono trasferiti a cascata sulla produzione, spiegano le associazioni di categoria e così quest'anno produrre un ettaro di pomodoro lungo è costato in media 3.500 euro in più, fanno i conti da col diretti. Dare in qualche modo una storicità a un prodotto significa portarlo a un produttore che fino a ieri lo consumava in maniera anonima, dopo che il disciplinare sarà approvato e seguirà tutto l'iter, in qualche modo un consumatore potrà capire chi è il produttore, chi è il territorio e qual è l'origine di questo prodotto. Significa questo il rispetto del Made in Italy nel mondo che oggi trova ancora un suo perché. Undicesimo convegno a Bari sull'ipertensione arteriosa e il rapporto medico-paziente al centro della discussione. Sentiamo. Ipertensione arteriosa e medicina della complessità. Sono questi gli argomenti su cui verte l'undicesimo convegno di formazione tecnico-pratica multidisciplinare organizzato dal dottor Vulpis del Policlinico di Bari. In memoria di Anna Pirrelli, ma anche per fare il punto su una malattia che ancora adesso è il primo fattore al mondo di rischio di immortalità cardiovascolare. Il paziente di iperteso è un paziente complesso, è un paziente che non è solo iperteso, ma è anche un paziente comorbido che ha altri fattori di rischio, ha anche altre malattie. Il trattamento ignorato di questi fattori e di queste malattie non porta a quel grande beneficio che il trattamento dell'ipertensione può determinare perché evidentemente nella genesi degli eventi cardiocerebrovascolari contribuiscono altri fattori e altre malattie. Necessario quindi è entrare in empatia con il paziente poiché entra a prendere un percorso terapeutico guidato e fondamentale ad essere iperteso e il 33% della popolazione italiana. Il 33% della popolazione italiana è ipertesa e solo il 50% di questi pazienti è trattato in maniera ottimale, e cioè noi diciamo è a target e chiaramente vive una vita qualitativamente migliore, prognosticamente più favorevole rispetto a un'altra metà, oltre il 50% dei pazienti che invece o non conosce la condizione ipertensiva che la caratterizza o non viene trattato o viene trattato male. Alle 11.48 di questa mattina le campane della cattedrale hanno iniziato a suonare a festa, Don Vito Piccinonna si è seduto sulla cattedra ed è ufficialmente il nuovo vescovo di Rieti, le immagini sono quelle della nuova diocesi dopo la preghiera consacratore, è stato unto sul capo con il crisma e ha ricevuto in consegna il libro dei Vangeli, l'anello, le insegne episcopali, la mitria e il pastorale. Si è insediato dunque sulla cattedra per presiedere poi la liturgia eucaristica al termine da quella cattedra. In partire la benedizione conclusiva al suo fianco, l'arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, e dunque a lui vanno i nostri auguri. Ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, la linea torna alle province di Taranto, Brindisi e Lecce, intanto arrivederci.